L'ultima è che l'ho sieduto qua, l'ultima è che l'ho sieduto Ok, li ho chiedo a lui Conoce tutti Ti ho giocato con loro Ti ho fatto, grazie Attacco vincenti poi Il brìo il servizio 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 Attacco in rete, di tre uomini e una testa e siamo 10 a 4 Servizio vincente del Brio e siamo unici a vincere facile Il Brio mette la brillantina sul pallone e questo è il segreto del suo servizio Muro vincente del Brio Servizio vincente del Brio Attacco, difesa e attacco vincente di Brio Attacco, battuta vincente di Brio Servizio in rete, siamo 4 Muro vincente di Brio Muro vincente di Brio Attacco 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 vincente di Brio Vincente di Brio Vincente vincente di Brio Brio Io avevo un Cactus con più mobilità di Brio Tendo Vincente di Brio Ghiaccio e Fendene La dieta dello sportivo attacco vincente attacco vincente di filipo e siamo 17 e se testa il servizio attacco l'umorino fuori di poco di poe e siamo 18 a 20 poi dicono che lo sport fa bene si sia chi vende le magliette 19 a 20 attacco vincente attacco vincente di adesso siamo 20 a 21 attacco vincente di adesso attacco vincente in portone attacco vincente di prima di Giacomo e siamo 22 a 23 strepitosa difesa di Giacomo siamo comunque 24 a vincente attacco vincente di poe e si va al terzo set decisivo ai 15 Giacomo al servizio attacco vincente di poe e si va al terzo set decisivo ai 15 di Paule attacco vincente di noscata in portone attacco attacco vincente di ai 15